Ciao sono Giorgia Besana, ho il numero 7 e faccio la appelleggiatrice. Senti Giorgia, è il primo anno ad Albese vero? Sì, è il primo anno. Prima impressioni? Ebbè, ho una bella squadra e una bella società soprattutto. Ed è un'esperienza importante anche per te la serie B1 giusto? Certo, è il primo anno che faccio la serie B1 e nonché il primo anno che esco dal giovanile. Hai qualche hobby particolare Giorgia? Anzi diciamo di dove sei? Sono di Verderium, un paesino in provincia di Lecco. Quindi Lecchese, esatto. Sì, esatto. Quali hobby hai? C'è qualche hobby particolare oltre al lavoro e soprattutto se studi ancora? Faccio la quinta del liceo scientifico tradizionale e come hobby mi piace scrivere però faccio a scuola più che altro. Senti c'è un sogno nel cassetto? E se c'è? Sono nel cassetto beh sicuramente diventare una pallevodista brava e importante diciamo arrivare a livelli alti e poi il mio sogno nel cassetto sarebbe diventare medico. Ah perfetto, beh in bocca al lupo ovviamente. Una città che è una città di sogni di Giorgia possiamo dirle? Ce n'è una? Sydney. Vabbè hai detto niente. Adesso mi dici un pregio di questa giovane palleggiatrice e magari anche anzi sicuramente anche un difetto. Un pregio? Mi ritengo una persona molto solare. Un difetto? Sono forse troppo critica con me stessa. Quindi molto severa. La musica? Che musica ascolti? Vediamo un po' se sei lo stile di questi giovani. Allora. Cioè ascolti Sfera e Company oppure no? Allora diciamo che ascolto abbastanza musica commerciale sulla radio e così però il mio gruppo preferito sono i Green Day. Ah perbacco. Fidanzata? No. No? E saluto i tifosi di Albese. Ciao ci vediamo presto in palestra.